Insieme Show in Tour arriva a Gela. Domani alle 21 al Teatro Eschilo farà tappa il noto spettacolo di Antenna Sicilia nell'ambito degli eventi organizzati dall'assessore Rocco Darma presentati nel programma Natalizio Quannudino Sciu. La trasmissione andrà in onda in diretta televisiva sul canale LCN10 oltre che in streaming sul sito dell'emittente e vedrà la conduzione Cristiano Di Stefano più la partecipazione di numerosi cavarettisti ospiti che intratterranno il pubblico gelese. Tra gli ospiti spicca il cantautore Giovanni Caccamo. Uno spettacolo televisivo realizzato all'interno di un teatro all'interno del nostro piccolo gioiello molto curato, molto bello che dà possibilità di trasmettere delle immagini e promuovere il nostro territorio, la nostra città tramite una cartolina con degli ospiti di caratura nazionale e regionale a partire da Caccamo, Antonello Costa, Pippi Tonella e Andrea Barone. La possibilità di poterlo vedere è su una rete regionale Antenna Sicilia e anche in streaming quindi a livello globale, la possibilità di mettersi in contatto in un periodo qual è il periodo natalizio e il periodo delle festività natalizie mettere in contatto le famiglie che non hanno la fortuna di poter essere vicine quindi idealmente parlando tramite la televisione, tramite questo spettacolo riuniamo le famiglie anche a distanza. Poi l'iniziativa è un'iniziativa che l'amministrazione ha voluto fare credendoci anche fortemente per innescare un meccanismo di solidarietà in pratica l'ingresso è libero quindi da questo momento si può andare al bottiglino del teatro comunale del teatro Eschilo e prenotarsi per l'assegnazione dei posti i posti saranno ad esaurimento l'unica cosa è che chi ritirerà il ticket poi al momento in cui entrerà in teatro se vuole può dare un contributo che verrà devoluto alla Casa Misericordia questa è una cosa a cui ci teniamo perché l'attività svolta a livello sociale da questa associazione, da questo ente è un'attività chiara agli occhi di tutti molto importante presente sul territorio che aiuta le fasce più deboli e che aiuta la gente che ha bisogno anche di un pasto caldo.